Il territorio di Castellabate continua a registrare guarigioni di cittadini che nelle scorse settimane sono risultati positivi al Covid. Sono 30 le persone guarite attualmente e 16 quelle ancora positive al Covid-19. A fare il punto della situazione il sindaco facente funzioni Luisa Maiuri che esprime il suo pensiero anche sul nuovo DPCM firmato dal governo. Per quanto riguarda la nostra situazione diciamo che è una situazione in cui stiamo registrando in questi giorni dei casi di guariti di persone negativizzate. Abbiamo ad oggi 16 persone ancora positive però tantissimi guariti per cui ci auguriamo che è un andamento abbastanza tranquillo. Ci auguriamo di continuare con questi dati. Anzi in questi giorni siccome sono stati fatti alcuni tamponi di riscontro ci auguriamo di annunciare tanti altri negativizzati. quindi è abbastanza tranquillo anche se ritengo che mi auguro che resti così però alla luce dei dei nuovi provvedimenti sia come zona arancione diciamo tutto sommato rispetto alla rossa non è che ha tante ehm aperture regole 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 meno restrittive in più perché noi registriamo solamente l'apertura eh di tutti gli esercizi commerciali però diciamoci anche in zona rossa una buona parte degli esercizi commerciali che era comunque quelli eh consentiti con i codici ATECO consentiti erano aperti. Io temo moltissimo questo lasso di tempo perché io credo che tra alcuni giorni probabilmente quasi tutta l'Italia diventerà zona gialla e temo questo periodo che intercorre fino al ventuno dicembre eh quando ci dovrebbe essere una stretta più più stringente perché siamo vicino alla eh alle festività natalizie temo che eh ci possano essere numerosi rientri sicuramente consentiti dalla legge però mi auguro che il governatore De Luca possa fare una stretta rispetto alle seconde case altrimenti eh effettivamente ehm si potrebbe registrare una situazione che eh dal punto di vista anche dei controlli diventa un po' più difficile da gestire. Infatti lei ha firmato l'ordinanza numero sessantaquattro che proroga insomma la chiusura dei luoghi di aggregazione sociale proprio sulla comune di Castellabate per dare effettivamente un freno eventualmente a eh assembramenti soprattutto in questi in questi giorni di festa. Sì sì io ho reiterato eh chiudendo la cioè ribadendo la chiusura del parco di Villa Matarazzo del castello dove ci stanno delle mostre dei centri di aggregazione delle due sale del centro centro per anziani. È evidente che che però ehm con 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 la con la zona gialla eh e mi rendo anche conto che eh c'è necessità di dare anche un po' di impulso in occasione delle festività natalizie all'economia all'economia in generale e anche ma soprattutto quella locale. Vitevo che ci possa essere un un rientro presso le secondi un arrivo presso le seconde case di di parecchie persone che rimarranno su questo territorio poi fino a dopo il 6 gennaio perché poi non si potranno più muovere a partire dal dal da una certa data adesso e e quindi dal 20 al 7 dicendere e quindi quindi ci ti roveremo con un territorio con tantissime persone che probabilmente sceglieranno di di trascorrere le proprie vacanze qui a Castellabatto quindi eh è un po' preoccupante perché è evidente che eh oggi ehm diciamo che c'è una situazione controllata e controllabile domani la le normative non consentiranno perché sarà sarà comunque consentito dal IPCM per cui mi auguro che il governatore in questo caso faccio una slitta rispetto a questi movimenti.